Siamo a Molfetta con Fuori Turno. Tre infermieri pugliesi hanno creato uno spazio di genuine distrazioni e di leggerezza con musiche e arte, con un'attenzione particolare nell'impegno sociale. Marilena Farinola. Lusi Pedone, Silvio Di Bitonto e Rosalba Lacedonia sono tre infermieri con un'indole artistica che hanno avvertito il bisogno di generare un vero e proprio toccasana per tutti coloro che, nell'ultima parentesi di pandemia, guerra e stress lavorativo, necessitano di uno spazio di genuine distrazioni e leggerezza, di essere fuori turno. Ognuno di noi sotto alla divisa o sotto comunque dentro di sé ha dei talenti che vengono comunque celati dallo stress che noi ogni giorno viviamo. Io per esempio sono impegnata in teatro, Lusi la mia collega è una cantautrice e Silvio invece è anche il mio collega, lui si dedica alla Music House, è un DJ di Music House. Quindi vuole nascere proprio come un punto d'incontro per poter creare proprio dei ponti con altri colleghi o altre persone per poter venire fuori da questo loop mentale che comunque il Covid ci porta a vivere e ritrovare comunque veramente il nostro spazio per ritornare ad essere noi stessi, in poche parole. Fuori turno ha anche l'obiettivo di dimostrare che eventi stimolanti e di vario genere possono essere organizzati e curati non solo da imprenditori ed esperti della Movida ma anche come in questo caso da professionisti sanitari con il fermo proposito di dare assoluta importanza ad artisti talentuosi con un'attenzione particolare anche al sociale. Una parte diciamo della serata verrà data anche in beneficenza ai bambini ucraini ospitati qua a Biceglie insieme all'associazione Biceglie sportiva con cui stiamo collaborando. Un'associazione che è nata con l'intento di racchiudere tutti i sani valori dello sport e del sociale. Siamo stati contentissimi di aver ricevuto questo invito dagli ideatori di questa serata fuori turno e siamo qui a disposizione per raccogliere dei fondi e prendere dei beni di prima necessità per i profughi che risiedono qui nella zona. Crediamo fortemente io e i miei colleghi che questo progetto possa veramente essere una finestra di apertura verso tutti quanti e poterci comunque ritrovare e ritornare a vivere il nostro spazio perché il nostro spazio niente nessuno ce lo deve togliere ma ce ne dobbiamo veramente riappropriare.